La Polonia è un mercato attrattivo, un paese in crescita, già ci sono numerosissime italiane presenti. Il nostro livello di scambio commerciale è altissimo, sfiora i 20 miliardi. La Polonia è l'ottavo destinatario delle nostre esportazioni. I dati macroeconomici dell'economia polacca sono tutti positivi o molto positivi, fra cui è abbastanza decisamente importante lo sviluppo del 4% del PIL, che è un dato che non si trova in nessun altro paese europeo nel corso del 2017. La scommessa dell'economia polacca, delle autorità polacche di insistere sull'innovazione, quindi ampliare sia la gamma di investitori che far crescere le competenze imprenditoriali delle proprie aziende, darà sicuramente un ulteriore slancio che durerà nel tempo a questa struttura economica già perfettamente oleata.